Cosa diciamo a chi si lamenta di tutto e di più rispetto a questa realtà? Ricordo genitori che vivono il reparto di Oncologia del Salesi, vivono le loro creature e li vedono affrontare queste sfide con tanto coraggio e amore. Lamentarsi lo permetto a tutti perché nessuno è mai pronto a ciò che ti sorprende, cioè come ti sorprende la vita insomma. Però vorrei che tutti nel loro piccolo contribuissero proprio a fare qualcosa per tutti quanti, anche per se stessi sarebbe proprio un dono e se qualcuno, se ognuno di noi lo imparasse diciamo che questo mondo sarebbe già migliore secondo me.